Ciao gente, oggi finalmente comincio le recensioni delle puntate di House of the Dragon, la serie che fu promessa, che abbiamo tanto atteso. Premetto che io sono uno che sta sempre imbronciato quando è a casa da solo, ma è da un paio di ore che ho un sorriso idiota stampato in faccia. Sì, perché la prima puntata mi è piaciuta. Ho delle riserve, ma sicuramente promossa. Piccolo chiarimento che varrà per questa puntata e per quelle future, la recensione divisa in due parti, una accessibile a chiunque abbia visto la puntata, quindi ci saranno spoiler su quello che abbiamo visto, e l'altra sarà solo per i lettori o i più temerari, in cui farò considerazioni spoilerando il materiale cartaceo. All'inizio ho storto un po' il naso, perché i film e le serie che cominciano con una voce narrante che narra il prologo non mi piacciono molto, con le eccezioni di Dune e di Lynch, del Signore degli Anelli e di Eternals. Beh, posso aggiungere anche quest'ultima puntata all'elenco delle eccezioni. È bello come raccontino in pochissime parole il Gran Concilio del 101, un po' modificato dalle opere di Martin, perché lì lo scontro finale è stato tra Viserys e Lenor, ma qui è spostato su Viserys e Renis. Comunque per tutto il tempo mi chiedevo chi fosse la voce narrante, alla fine scopriamo che è di Renira, il che ci sta, perché tra tutti i personaggi sarà probabilmente la protagonista principale, e poi la principessa che racconta un pochino la storia fa molto Dune di Lynch, e sappiamo quanta gioia debba a Dune. Abbiamo poi un timeskip, al nono anno di Regno di Viserys, quindi siamo nel 112, e quindi il mio scorso video si rivela completamente inutile perché tutte le date sono sballate. Ma vabbè, i timeskip erano di diversa lunghezza anche nella serie madre. La puntata vera e propria inizia subito mostrando i muscoli di CGI con Syrax, fatta davvero bene. Le panoramiche aeree di King's Landing sono davvero molto belle, e in generale gli effetti sono molto validi, tranne in due circostanze, l'occhio di Caraxes, che mi sembra molto strano, e il teschio di Balerion, che mi è sembrato fintissimo. Vedo gente apprezzarlo, a me non è piaciuto. Il modo in cui iniziano a caratterizzarci il rapporto tra Alice e Renira, prima ancora di qualunque altro, è davvero carino. Poi non sembra che abbiano nove anni di differenza, ma è possibile che anche questo sia stato cambiato. Vedremo come si evolverà il rapporto, sono molto curioso, da lettore so dove andrà a finire, ma non conosciamo molto le tappe intermedie. Veniamo anche a sapere che è da poco che Alice int'ha perso la madre, quindi è ancora più in comune con la futura principessa di Dragonstone. Prima scena di Viserys, su cui nutrivo pesanti dubbi, lui fa una battuta e ride, tranquillizzandomi del tutto, è stata una cosa davvero bella. Per non parlare che in questa puntata l'attore è stabiliante, lo vediamo attraversare tutte le gambe emotive ed espressive e non delude mai, quindi è promosso a pieno. Milly Arcock, l'attrice della giovane Renira, non è altrettanto brava, forse perché sfigura un po' vicino agli attori del padre e dello zio, per quanto la sua voce sia molto espressiva devo dire che la sua faccia mi sembri praticamente sempre la stessa. Per quel poco che vediamo Emma Arryn resta nel cuore, la mostrano molto come madre e come moglie, non molto come regina, anche se con una sola puntata a disposizione non si poteva fare molto. Il rapporto tra lei e Viserys è molto dolce e questo rende la sua fine ancora più tragica. È bello il discorso che fa Viserys del suo erede, dice che è un sogno, e potrebbe essere un sogno di drago, ma di questo ne parliamo della parte spoiler. Demon è un personaggio che evolve molto poco nel libro, è quasi sempre inalterato, e qui lo vediamo già come lo conosciamo, in una sola puntata lo hanno caratterizzato perfettamente, mostrando il suo atteggiamento un po' caffone e brutale con i criminali, ma comunque amato dai suoi subalterni. La scena di giustizia sommaria è brutale, disgustosa e sanguinaria, esattamente come ci si aspetterebbe da Demon. La scena dello stupratore ci viene mostrata di spalle, e io mi dico, non lo mostrano di fronte per risparmiarci lo schifo. Poi cambio di inquadratura e su quel ceppo vediamo lo scroto mutilato. Bello come nel concilio citi Rea Royce, la puttana di bronzo, precisi dettagli di mitologia. Molto bello come lui se ne sia tranquillo stravaccato sul trono, mentre il fratello è molto più regale, ma comunque si taglia. La violenza c'è, il sangue pure, il sesso manca parlarne, eppure l'intrigo di potere inizia ad ilenearsi. In questa puntata vengono piantati un sacco di sebi che matureranno con il tempo. Le scene del concilio sono belle, ma sicuramente andranno sempre per il meglio. Mi domando cosa siano le sfere che gli vengono poste davanti, forse un modo per votare, lo scopriremo più avanti. Abbiamo poi il torneo, con Ser Criston Cole che è perfetto, scudo arancione nero, cavallo bianco e mazza ferrata. Dicono che viene dalle terre della tempesta, ma poi dicono che è un Dorniano. Magari un Dorniano nato nelle terre della tempesta, dopo tutta questa altezza Dorn non è ancora sotto il trono di spade. Forse intiamo dire dalle Marche Dorniane, che sono una regione che si estende tra Dorn, terra della tempesta o d'alto piano. I Cold, da quanto ne sappiamo, dovrebbero stare vicino ai Dondarion, quindi sì, proprio Marche Dorniane nelle terre della tempesta. Non ha gli occhi verdi, ma non si può volere tutto. Per il resto il torneo è abbastanza avvincente, anche se lo scontro che dovrebbe essere il piatto forte, quello tra Daemon e Criston, è parecchio confusionario, la regia non permette di capire molto bene quello che sta succedendo. Alla fine comunque vince Cole, facendo riferimento al torneo del 104 a Maidenpool, almeno così nei libri. Abbiamo comunque modo di vedere come Daemon giochi secondo le regole. Peccato che le regole in questione siano le sue regole, e non quelle che seguono gli altri. Restando sugli spalti ci vengono mostrati i fratelli Velaryon, Lena e Lenor. Non vengono presentati, ma sono seduti davanti a Cordis e a Rhaenys, e, come se non bastasse, il colore della loro pelle rende chiaro che siano loro figli, come i cavallucci marini sui vestiti, proprio come quello del Serpente di Mare. Io direi che è un'ottima introduzione visiva, sappiamo che esistono, nelle prossime settimane ce li presenteranno meglio. Nel frattempo abbiamo il parto di Emma, un po' diverso da quello dei libri. Non viene descritto, ma qui salta fuori che il bambino è podalico, e Viserys è costretto a decidere se operare il cesareo o no. Io ho diversi punti deboli, e i parti sono uno di questi. Mi sono sentito male in Pisces over Woman, e lì la madre sopravviveva. Provate a immaginare qui come mi sono sentito. Io sono pure nato col parto a cesareo, quindi tutta benzina sul fuoco. Nel dolore della scena è bellissimo come non dicono nulla sulla fine del piccolo Belon, ma si limita a mostrare una piccola pira vicino a quella della madre. Davvero un tocco di classe. Poi è bello come tocchi proprio a Rhaenyra a vedere le pire. Dopotutto il padre non ha più un drago. Però non mi è piaciuto che abbia detto Dracarys, visto che nei libri è Daenerys, a far associare ai draghi quella parola allo sputare fuoco. E mi sembra sia così anche nella serie. Vabbè un rimandino alla serie madre, cosa volete che sia? Bellissimo che si veda chiaramente l'ambizione di Otto Hightower, quando manda la figlia a confortare il re. Ci mancava che facesse la recitazione a Code Geass. Consolalo, sei una donna, no? Dovresti sapere come si fa. E a proposito, il festeggiamento di Daemon, dell'erede per un giorno, mi fa morire dal ridere, perché c'è un tizio che era impegnato in un amplesso. Si ferma, ma resta ancora dentro, se capite cosa intendo. È proprio ridicolo, ma ci sta. Misaria, appena accennata, troppo presto per poter dire qualcosa. Passiamo poi al discorso con cui Viserys nomina Renire Rede. Posto che quel tesco di Balerion mi sembra fintissimo, hanno ripreso la faccenda dei Targaryen e i fughi, cosa tipica della serie, ma vabbè. Non hanno detto che Balerion era il drago di Viserys, ma anche questo, vabbè. Il problema di quella scena è che Milly Arcock non modifica affatto la sua espressione. Va bene che non lo faccia durante la cerimonia ufficiale, ma che non lo faccia mentre il padre le fa questo discorso è un po' innaturale. Poi c'è tutta la parte dove parla di Aegon il Conquistatore e canonizza nella serie un headcanon molto diffuso, quello che vede Aegon consapevole del ritorno degli stranei e che questo lo abbia spinto a conquistare Westeros. Insomma, non è proprio una cosa che sapeva solo Aegon, i guardiani della notte stavano lì da 8 mila anni per qualcosa, no? Il discorso di Viserys è molto bello, e tutto il resto non è se mi è piaciuto molto. Del contorno dei discorsi, c'è poi il comparto tecnico dove mi devo congratulare per le musiche, molto belle, con alcuni rimandi a quelle della serie madre, e le ambientazioni sono molto fighe. Si vede che King's Landing è una città costruita sulle colline, mentre per il costume posso dire ben poco, visto che non sono un esperto, a differenza di Marika. Mi sono piaciuti, con l'eccezione dell'elmo di Daemon e di quello di Gwaine Hightower, che qui viene presentato come il figlio maggiore di Serotto, anche se nei libri è più giovane di Alicent. Hanno cambiato l'aspetto delle armature delle guardie reali, ma ci sta che in un secolo abbondante possano cambiare. Ora passerei alla parte per lettori e temerari. Fuggite finché siete in tempo. 3, 2, 1... Ok, diciamo qualcosa che tanto spoiler non è. Daemon spoglia Rhaenyra con lo sguardo. Già in questa puntata, nel momento in cui le mette la collana, sta lottando con tutte le sue forze per non farci cose nella sala del trono. Poi i due parlano in alto valeriano. Non so perché tutti siano entusiasti di questo. Per me non è nulla di particolare, né in positivo né in negativo, ma sono contento che sia stato apprezzato così tanto. È bellissimo come Emma spieghi che Rhaenyra è convinta che avrà una sorellina e la chiamerà Visenia, che poi chiamerà così la figlia nata morta dopo aver appreso del decesso del padre. Davvero un bel collegamento, specie perché è probabile che vedremo questo nell'ultimo episodio della stagione. Davvero molto bello che Viserys dica che non intende tagliare la lingua a chi chiama Rhaenys la regina che non fu. Le voci non cambiano la successione, ma sappiamo che arriverà a farlo a chi metterà in dubbio la paternità dei suoi nipoti. Vengono piantati questi semi che poi si evolveranno un po' alla volta. E poi c'è il discorso che fa sul sogno. Probabilmente è un sogno di Drago, perché ha visto la nascita di Aegon II, solo che non ha visto che la madre non era Emma. Va bene? La recensione è finita, spero vi sia piaciuta. Ditemi la vostra, tutto quello che volete, in modo spoileroso. Se fate spoiler sui libri, magari contrassegnatelo, nei commenti, per sicurezza mettiamo a caso che arrivi qualcuno di nuovo su questo canale in occasione della serie che non ha letto i libri. E statemi bene, mettete un mi piace se vi è piaciuto, un non mi piace che non vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Vi ricordo che domani esce Azoia Fanimated, quindi restate comunque collegati e in attesa. Statemi bene, e ciao ciao, alla prossima!